1-2, ma il passaggio di Lautaro è brutto, è di... C'è l'anagulo è brutto, poi ancora l'Inter. Bravo, bellissimo, l'inserimento di Miki Tarian, Miki, indietro, Percialla che arriva e calcia! Ma che botta violenta, e qui si salva. Al centro, Tom Freeze, mamma mia, mamma mia Tom Freeze, mamma mia Tom Freeze!